Allora, eccoci qua di nuovo, rieccoci, per parlare a questo punto, per affrontare, ma non state troppo comodi perché vi faccio alzare subito, siete pochi ma buoni, ci basterà questa cosa. Allora, siamo pronti per affrontare la questione dell'asse anteroposteriore, che è poi un po' l'argomento su cui ci saluteremo per le vacanze. E l'ultimo argomento, per certi aspetti effettivamente è il più complicato, adesso ci ragioneremo, va anche il perché. E forse però un'intuizione di come potrebbe funzionare questo, adesso oggi un po' la meccanica ve la dico già, però un'intuizione di come potrebbe funzionare lo sviluppo di questo asse anteroposteriore, secondo me si vede già proprio guardando questa foto. Questo è un embrione di un serpente e questa parte qua davanti è abbastanza simile a quello che potremmo essere noi, che ne dite? Un embrione di umano, di mammifero, che ne so, anche di uomo, più o meno ha questa faccia qua, cioè somiglia a questa cosa qua. Forse il tetto ottico è un po' grande, però insomma fin qui, giusti si, tu va bene. Questo è abbastanza uguale a quello che potrebbe essere un embrione umano. E dov'è la differenza? Lo vedete? Ecco che qui a un certo punto doveva finire, oh finisci, oh basta, oh basta, oh, oh basta! Cioè si è allungato clamorosamente sul fondo. Allora, com'è successa questa cosa? Come si fa? Hanno delle uova lunghissime che voi sappiate, i serpenti? No, le uova con tutti gli altri, cioè, in realtà appunto, vabbè, adesso lo vedremo, come si forma questa cosa qui. Quindi evidentemente c'è qualche cosa che io posso aggiungere, posso aggiungere, aggiungere dove, quando, come? Lo vediamo tra pochissimo, anzi proprio adesso, però prima di iniziare vorrei fare un brevissimo resumé di come viene, come spunta fuori questo asse d'orso ventrale. Lo vediamo prima nello xenopus e in realtà poi, oggi vi faccio ancora un piccolo introduzione su come funziona questa specificazione di questo asse, l'organizzazione di questo asse, invece nei vertebrati, scusate nei vertebrati, negli amnioti. Ogni tanto io dico delle parole che non hanno senso, senza accorgere, qualche volta me ne accorgo, qualche volta no, però spero che ve ne accorgiate voi. Allora, rivediamo un attimo questo evento. Quindi c'è un tessuto, quindi abbiamo un primo asse d'orso ventrale, e io vi ho sempre detto l'asse anteroposteriore non ve lo immaginate, dimenticatelo, non c'è. All'inizio della gastrulazione l'asse anteroposteriore non c'è, ed è davvero così. A un certo punto però inizia la gastrulazione, quindi vediamo che tutto comincia con questo gruppetto di cellule, dorsal blastopor lip, mesoderma dorsale, che inizia ad invaginarci. Adesso lasciamo perdere questo anticipo del dorsale rispetto agli altri. Diciamo il mesoderma della testa, quindi la porzione più anteriore. Ricordate la frase evocativa, la gastrulazione è il momento in cui la testa entra nell'ano. È quello. Quindi lasciamo stare chi entra per primo, chi arriva un po' per ritardo. Il primo, quindi immaginiamo il cerchio, questo cerchio del blastopor lip, come se fosse un unico cerchio, d'accordo? Quella è la testa, la porzione più anteriore. Lui si infila e poi corre verso la testa, giusto? Che dovremmo mettere dall'altro lato perché questo sarà l'ano, quindi corriamo a creare una testa dall'altra parte, però lasciandosi dietro come una stella filante, no? Come, non so, le strisce della strada, dell'omino che lascia giù, che disegna le strisce sulla strada. Comunque, lasciandosi dietro l'asse anteroposteriore, come se lo stesse depositando, come l'ombrico che fa la cacca. Non so, come volete, comunque, sono tante belle metafode di questa cosa. Però l'idea è quella, cioè che la testa va avanti, è come un trenino conga, una stella filante, man mano viene a prodursi l'asse anteroposteriore. Quindi inizialmente qui abbiamo la testa e poi a un certo punto avremo il culo. E questo asse, però, è un asse, lo vedete come è scritto lì, temporale. Cosa vuol dire temporale? Vuol dire che la testa c'è all'inizio, ma il culo, no, dov'è? Chi è? Allora, per capirla meglio questa cosa, però, e poi una cosa è il mesoderma, e che cosa succede all'ectoderma? Allora, per capirla meglio, in realtà io vorrei provare a mimarla. Siete pronti? Io vorrei che voi recitaste con me, visto che siamo un pelino in anticipo, ok? Quindi che mettiamo su questo teatrino scientifico per cercare di mimare tutti insieme questo evento. D'accordo? Quindi metto un attimo in pausa, partiamo, esatto. Oh, quindi c'è stato questo pezzo di teatro che è venuto benissimo, avete interpretato una gastrullazione meravigliosamente. E quindi qualcuno qui, l'ectoderma che non sapeva chi era, l'ha scoperto. Dov'è la testa lì? Eh, hai visto? Hai scoperto di essere un testone, chi lo sapeva? Va bene. Allora, però appunto, il concetto fondamentale di questo asse anteroposteriore, quindi, è che il mesoderma si srotola, srotola l'asse anteroposteriore, e poi segnala, quindi induce gli altri tessuti in modo regionalizzato. Allora, questa cosa che voi avete scoperto col teatro, in realtà è stata scoperta, è stata scoperta inizialmente con i trapianti, dal marito di Hilde Mangold. Ricordate, Hilde Mangold, quello che aveva fatto il trapianto del margine dorsale del blastoporo, e aveva visto nascere tutto un asse anteroposteriore. Ecco, il marito, diciamo così, ha continuato gli studi della moglie, tristemente scomparsa, e, vabbè, poi i maschi si sa, sono gente pratica, quindi lui ha cercato un sistema più semplice, di fare circa lo stesso esperimento. Però adesso provo a spiegare, qual è l'esperimento? Allora, lui cercava di capire, tanto per cominciare, se la capacità induttiva, questa cosa che abbiamo visto adesso, la capacità induttiva dei diversi pezzi anteroposteriori alla fine della gastrurazione, in effetti è regionalizzata. Cioè, se il pezzo, se la parte dorsale anteriore induce delle teste, quella, no? Quindi questo segnale che avete fatto quando avete chiesto, chi sono io? Lì l'avete detto solo l'electroderma sopra, ma in realtà lo stavate dicendo, spruzzando, facciamo anche la versione in cui sputazzate, quello sarebbe bellissimo. bisogno di sputazio. Comunque adesso poi la studiamo bene. Adesso scusate, ce l'ho preso qua, ok. Quindi c'era tutta questa... Aspettate che tra l'altro stamattina non è venuta... Oh, ok. La registrazione quindi cerco di farla bene almeno stavolta. Allora, questa cosa lui l'ha assaggiata, quindi se era capace, no? Queste porzioni anteroposteriori, no? Della porzione dorsale di indurre, diciamo un asse dorso-ventrale, però diciamo coerente, no? Dico il livello anteroposteriore, e l'ho fatto però in un modo un po' più semplice, con un sistema un po' semplificato. Che sarebbe? Che lui prendeva questi pezzi, no? Anteriori dorsali, un po' intermedio dorsale, insomma vari livelli anteroposteriori, però sempre dorsale, e invece di ritrapiantarli, diciamo così, ectopici e bla bla bla, o nel posto sbagliato, lui che cosa fa? Li butta semplicemente dentro il blastocele, più facile, più veloce. Ne doveva fare tanti, possiamo dargli questa scusante, no? il The Mangold faceva un solo caso, lui invece deve farne tanti, e quindi appunto utilizza questo sistema, che però non è male, perché appunto il blastocele noi sappiamo che si obliterà durante la gastrullazione, quindi quello si schiaccia, a un certo punto quei pezzi di tessuto rimangono schiacciati, e a questo punto indurranno i tessuti vicini a un nuovo asse dorso-ventrale, lo fanno, però attenzione, guardate un po', i più anteriori fanno la ghiandola del cemento, che sarebbe la porzione più anteriore di tutte, questo pezzo fa una testa, quindi induce una testa, un nuovo asse dorso-ventrale, ma di una testa. Quindi, quindi già noi capiamo che effettivamente queste cellule hanno una capacità induttiva, è quello che avete scoperto voi, quando chiedevate chi sono io, questo chiedono i tessuti, chi sono io, siamo una testa, e quindi tutto quel pezzo di larva diventa una testa. A questo punto però, io vi ho chiesto, ma tu sapevi già di essere testa? Tu sapevi già di essere, anche a voi che eravate il mesoderma, quindi il mesoderma manda questo segnale, ma quando hai scoperto di essere la testa? Quando hai scoperto di essere il culo? Quando hai scoperto di essere il culo? No, scusa, così sembra brutto. Dimenticatevi questa cosa con te. Quando è stato specificato, quando è che hai acquisito questa identità anteroposteriore? Allora per capirlo, lui fa lo stesso tipo di trapianto, quindi mettendo dei pezzi, diciamo così, nel blastocele, questa volta però di labbro dorsale del blastoporo, attenzione, a diversi momenti della gastrulazione. Perché? Perché noi sappiamo che questi tessuti, anteroposteriori, entrano dal blastoporo, quindi a un certo punto i primi a entrare nel blastoporo in quel momento era la testa, poi c'era qualcuno che batteva il tempo, e a un certo punto è entrato invece, magari qui, la coda, se aspetto la fine della gastrulazione, lì staranno entrando, invece si staranno invaginando le parti di mesoderma destinate a diventare la coda. Quindi lui fa un trapianto, diciamo così, eterocronico, però senza più aspettare che vadano in posizione, ma prima, prima, nel momento in cui stanno appena appena formandosi queste cellule, lì c'è proliferazione, insomma, appena nate queste cellule, vediamo chi sei, ok? Prendiamo cellule appena nate, tu chi sei? Sai già di essere un culo? Un attimo, sono appena nate, lo sa o non lo sa? Ecco, il concetto è che dopo aver fatto questo trapianto, attenzione, sì, lo sa già, erano già determinate, la loro identità anteroposteriore è già determinata, nel momento in cui inizia la gastrulazione, e di fatto è quando si sono formate, perché quello è il momento in cui vengono generate quelle cellule, ok? E questa quindi è una grandissima notizia, quindi evidentemente esiste un fattore, l'asse anteroposteriore, l'identità, scusate, anteroposteriore del mesoderma è definita da un fattore temporale, questa era una cazzata, cioè c'è qualcuno che batte il tempo, ci siete? Come nel gioco a gioia, testa, collo, spalle, cioè non è, questo è un po' che rende complicato l'asse anteroposteriore, non c'è un effetto spaziale come abbiamo visto fino adesso, in cui c'è un gradiente che delimita, che digitalizza un elemento spaziale in identità differenti, qui c'è qualche cosa che digitalizza un elemento temporale, cioè passa del tempo e man mano che passa il tempo abbiamo identità diverse, l'identità cambia nel tempo, questa cosa come si fa? Come si fa? Lo proveremo a intuire, senza esagerare, nel capirlo alla fine di questa lezione. Per adesso io rimarrei un pochino così nel descrivere questa storia e alcune delle molecole coinvolte in questa storia. Quindi, per esempio, senza cercare appunto di andare a capire quando, che cos'è che ha definito che questa fosse coda, testa e questa fosse coda, fermiamoci a un livello precedente o più semplice di capire questa testa, in che modo ha indotto la testa. Ci siete? Quali sono le molecole che queste porzioni anteriori possono produrre per indurre delle teste? E se c'è qualcosa di diverso a questo punto, dal punto di vista temporale, prima cercavamo delle differenze di espressione genica spaziali, qui cerchiamo delle differenze di espressione genica temporali, però in realtà questo tempo diventa spazio, mi sto perdendo, ve la sto facendo troppo complicata, però diciamo, insomma, per esempio, sappiamo chi guida la migrazione al di sotto dell'ectoderma. In realtà non è proprio il mesoderma più anteriore, se vogliamo essere precisi, ma sarebbe l'anterior viscera l'endoderma, cioè la porzione proprio più anteriore di tutte che guida quella migrazione in realtà è l'endoderma della bocca. Ma vabbè, insomma, questa è una quisquiglia su voi. In ogni caso, questo anterior viscera l'endoderma è in realtà anche l'endoderma più anteriore, ce la posso fare? Ecco, in effetti esprimono alcune molecole che non sono espresse nelle zone caudali. e tra queste molecole c'è questo che ve lo presento appunto, c'è questo Cerberus. Chi è Cerberus? A parte questo è l'animale mitologico a tre teste, chissà perché gli hanno dato questo nome. Allora, Cerberus però, ve lo consiglio, è un fantastico inibitore, due in uno, cari amiche, volete inibire le BMP? C'è Cerberus. Volete inibire anche Wint? C'è sempre Cerberus. Cerberus è sempre un inibitore extracellulare, quindi somiglia a Noggin, Cordine e Follistatin, ma ha una funzione in più. Mmm, è multifunzionale. Paspartout non lega solo le BMP, ma lega anche Wint. Quindi è in grado di inibire a livello extracellulare anche l'azione di Wint. E che c'entra Wint? Eh, vuoi vedere? Quindi evidentemente il mesoderma più anteriore della testa, la sua azione, non è solo quella di inibire le BMP, come hanno tutti gli altri pezzi del mesoderma, anteroposteriori, ma anche Wint. Ah, vuoi vedere che Wint c'entra qualcosa? Beh, innanzitutto però, chi lo sa questo Cerberus, ma chi lo conosce? Siete sicuri che serve a qualche cosa? E allora in effetti potremmo provare. Che cosa succede se io metto in un blastomero vegetativo, quindi dove si dovrebbe formare a un certo punto l'addome, l'intestino, quelle zone lì, io gli metto Cerberus, diventerà una testa, ci sarà una testa, c'è questo blastomero, il suo identità anteroposteriore o l'identità anteroposteriore dei suoi figli, sarà condizionata a diventare solo anteriore? Ma poi quello finisce nel tappovitellino e in realtà quel blastomero lì è proprio quello che diventerà il culo, quello che esce poi dal fondo dell'ano. Ma dobbiamo proprio farlo, mi direte voi. Eh sì, dobbiamo farlo ragazzi, è per la scienza. Quindi proviamo a vedere che cosa succede se io metto questo mRNA che sospetto condizioni l'identità di chi lo esprime e lo fa diventare una testa lì dentro. Lo volete vedere? Lo faccio vedere? In effetti e la cucù ciao esce proprio da lì l'accidentità. No dai, non è bello ridere. Però effettivamente è terribile, è terribile. Ma cioè è terribile ma è meraviglioso, è fantastico. Cioè effettivamente Cerberus ok, ha condizionato lo sviluppo di queste cellule che l'hanno ereditato facendo formare lì una testa e questa è una testa che c'è proprio da lì sembra un parto di girini ma in realtà no, è solo una testa costruita in un posto che non c'entra niente. Esatto, rimasta ventrale così. Però c'è una piccola testa che si è formata quindi Cerberus in qualche modo induce teste accidenti ma in effetti a ben guardare però vi dirò questa porzione anteriore vediamo di orientarci questa è un'ibridazione in situ doppia in rosso cordin vedete cordin questa è la notocorda ci siete? Notocorda chissà perché l'hanno chiamato cordin che fantasia allora cordin è qui vedete e qui vedete in realtà anche non solo Cerberus ma un'altra molecola anche quella espressa in modo specifico da questo mesoderma anteriore e che si chiama frisbee dov'è la nostra testa? tu giochi a frisbee? no? non giochi a frisbee? beh ma invece dovresti provare perché o forse non ce lo vuole dire perché è timida ecco frisbee quindi il mesoderma anteriore non contiene solo Cerberus ma anche frisbee frisbee questa volta però non lega le BMP ma soltanto Wint è un equivalente di cordin no? ginefolistatin ma specifico questa volta per Wint ci siete frisbee blocca Wint quindi ce l'ha proprio sei fissata con Wint eh? ma tu c'hai Wint come compagnia di telefono no assolutamente no no? team Vodafone ma no Wint ok quindi nella porzione anteriore no Wint sembra esserci proprio un problema con Wint in più scusate un po' che cosa ci aspettiamo a questo punto però? ah questa l'abbiamo imparata ormai la produzione di un mRNA l'mRNA è lì verrà messo in produzione c'è la proteina la proteina viene secreta e dove andrà? una proteina secreta da un punto specifico formerà? certo che cos'è una delle cose su due che vi sto chiedendo la risposta è gradiente comunque più o meno si formerà un gradiente gradiente che però aspettate questa volta però il gradiente di Cordin più o meno è omogeneo dorso-ventrale questo gradiente invece qui questo può darsi che invece sia antero-posteriore in più se guardate anche lui proprio espresso a gradiente cioè l'espressione di queste molecole si riduce un po' dietro quindi possiamo immaginare che si forme un gradiente antero-posteriore di molecole che inibiscono Wint ok ma a questo punto scusate quindi a questo punto noi potremmo immaginare che effettivamente Wint quindi che Wint sia un fattore caudalizzante quindi Wint è legato quindi nella porzione caudale ci aspettiamo che Wint la via di Wint beta-catenina tutta quella roba lì sia ampiamente espressa e non abbia problemi mentre nella porzione anteriore la via di Wint viene inibita e anzi potrebbe esserci proprio un gradiente in cui la via di Wint riesci ad attivare a salire su no? a emergere sempre di più man mano che andiamo più dietro un gradiente di Wint e per avere la testa Wint no giusto? tu sei no Wint giusto? no ma proprio non gliene parlare di Wint guarda che va fuori di testa vado fuori di testa se mi parli di Wint ok quindi no Wint per avere la testa vediamo vediamo a questo punto cosa fa il biologo dispettoso ah non volevi Wint e io te lo metto e io ci metto ancora più Wint faccio aggiunta di Wint come si può fare con in effetti di nuovo l'iniezione specifica attenzione però in questo esperimento in questo esperimento viene questo Wint viene messo in due blastomeri soltanto ok in modo che sia diciamo questa qui mi pare che se non sbaglio è la porzione dorsale comunque insomma là da dove verrà fuori la notocorda l'organizer e tutto questo tutta questa zona quindi tutti i nostri amici dell'organizer e i suoi figli anteroposteriori la sua progenie anteroposteriore tutti quanti faranno una festa di Wint esplosione di Wint produciamo un sacco di Wint ok quindi esageriamo con Wint anche la testa anche tu che non lo volevi Wint e te lo trovi ce l'hai lì questo continua ad andare agli ribosomi porca miseria mi salta fuori un sacco di Wint me lo sto anche producendo e quindi tu cominci a produrre un sacco di Wint quindi produce gli anti-Wint ok gli inibitori extracellulari di Wint ma pure un sacco di Wint però a questo punto lì dove Wint non lo volevamo per avere la testa ci troviamo un sacco di Wint cosa potrebbe succedere non si forma la testa senza testa oddio l'embrone è senza testa volete vedere l'embrone è senza testa e in effetti è proprio così è senza testa oddio è così ok questo di nuovo un lavoro del laboratorio del professor De Robertis se esageriamo con Wint troppo Wint fa perdere la testa mi fa perdere la testa troppo Wint non esagerare non si forma più la testa questo vuol dire che effettivamente l'inibizione che tu stavi cercando di mettere su Wint non era sufficiente tu si che producevi frisbee e lanciavi i tuoi frisbee e Cerberus però c'era troppo Wint e quindi alla fine appunto questo eccesso di Wint non è riuscito ad essere arginato dai tuoi fattori anti-Wint ecco ma a questo punto però per verificare che questo effetto è reale potremmo pensare o provare a mettere il tuo eccesso di Wint ma così come ho esagerato quindi adesso tu hai pompato Wint tutti quanti tutta la parte tutta la parte dorsale produce troppo Wint a questo punto però potremmo provare ad aumentare anche gli inibitori extracellulari di Wint è sufficiente? quindi è proprio è il livello di Wint che decide testa sì testa no testa croce cosa facciamo? ce la giochiamo a testa croce secondo voi cosa vi aspettate qui? riusciremo? ho messo troppo Wint metto inibitori extracellulari di Wint i due si dovrebbero annullare a vicenda forse sì ci aspettiamo che sarà così? cioè lo tariamo bene magari questi due mRNA li tariamo bene in effetti vi dirò che è proprio così minchia sì ok cioè è possibile ritarare cioè ho aumentato ho aumentato il livello di Wint ma se aumento l'inibizione di Wint ecco che riporto tutto alla normalità quindi evidentemente sono i livelli di Wint che decidono se avremo una testa oppure no allora da questi lavori chiaramente è ancora un po' semplificato come modello però possiamo immaginare e mi piacerebbe che vedeste che stiamo facendo un po' più in là della gamba dell'esperimento ok stiamo facendo un passo che va un po' più in là dell'esperimento che abbiamo visto però potremmo immaginare che esista in effetti un gradiente di Wint quindi il nostro endoderma no il nostro mesoderma lui ha le idee chiare su chi è ok io sono quel livello antero posteriore ecco che però di nuovo magari uno da un lato lo deve comunicare cioè deve indurre gli altri tessuti a prendere quell'identità antero posteriore in più potrebbe autoconvincersene se stesso anche quindi determinarsi ulteriormente e lo fa producendo ecco in questo caso probabilmente insomma regolando questa è la cosa più semplice un gradiente di Wint quindi Wint è un fattore caudalizzante e quindi cercando di avere sempre meno Wint andando avanti andando dorsalmente anteriormente ecco che riusciamo a definire i diversi livelli antero posteriore ok quindi questo è un po' un elemento che potrebbe essere sì i primi che entrano lo inibiscono proprio e man mano che andiamo indietro invece c'è un'inibizione di Wint che si riduce sempre di più in realtà ti dirò la storia poi è un pelino più complicata perché ci sono altri fattori l'acido retinoico l'FGF e in più questa identità antero posteriore almeno per il mesoderma è già settata la nascita delle cellule però sicuramente Wint è un fattore caudalizzante quindi c'è un gradiente di Wint si forma un gradiente di Wint e in realtà io vi dirò che non ci voglio andare a cose più complicate sarebbe più complicata di così tutto il signaling però io vorrei passare velocemente ai vertebrati fatemi vedere che ora è non devo perdermi no presto ce la posso fare sì quindi in definitiva scusate questa è solo una slide riassuntiva ma è piuttosto semplice se volete quindi nelle porzioni caudali qui vi fa vedere la specificazione del ectoderma l'ectoderma avrà anche lui delle porzioni più anteriori intermedie lo sapete no? l'avete studiato ad anatomia il telencefalo il mesencefalo il metencefalo il midollo spinale e tutti i tratti del midollo spinale e tutta quella roba va indotta ok? antero posteriore però nel almeno nello xenopus avete visto che tutto cresceva in quel modo quindi c'è un segnale che deve arrivare WINT sicuramente è un segnale importante per questo quindi inibire WINT permette al tubo neurale di acquisire una identità da telencefalo lo inibisco un po' di meno e sono il diencefalo lo inibisco ancora meno e ho il mesencefalo metencefalo e via così ci siete? quindi WINT come fattore che regola in realtà appunto vi dico ce ne sono anche altri però per adesso ci accontentiamo di WINT e quindi voilà quindi WINT più BMP producono quindi inibizione di WINT e inibizione di BMP produciamo strutture dorsali anteriori inibizione delle solo BMP ma invece lasciando attivarsi WINT otteniamo strutture dorsali ma più caudali ci siete? quindi inibendo BMP abbiamo un segnale che dorsalizza se BMP più quindi inibendo BMP ma inibendo anche WINT abbiamo un segnale che dorsalizza e rende anteriori due gradienti uno di WINT che fa l'asse anteroposteriore e uno di BMP che fa l'asse dorsoventrale ok e c'è questo e c'è questo che chiameremo vertical signaling in cui la notocorda e il suo livello di WINT che cambia segnala e quindi regionalizza gli elementi anteroposteriori delle porzioni che ha sopra e l'esempio più diciamo evidente che potrebbe venirvi in mente è proprio quello del sistema nervoso tutti quelle sotto zone anteroposteriori del sistema nervoso sono state indotte dal mesodermo da sotto voilà e qui le ho messi vedi prosencefalo mesencefalo rombencefalo spinal cord eccetera eccetera va bene ma appunto abbandonando un attimo questa storia quindi nei in realtà negli anfibi questa questa specificazione dell'asse dorsoventrale anteroposteriore mh sono leggermente diverse adesso vedremo rispetto a quello che si vede negli amnioti allora noi domani vedremo un pochino più nel dettaglio la specificazione anteroposteriore e per questa specificazione anteroposteriore però vi dirò preferisco farvela negli amnioti perché? perché negli amnioti si vede meglio e lo vediamo subito perché no scusate mercoledì prossimo mercoledì prossimo al mattino eh vi scrivo oggi perché così ci volevo mettere un remind e l'avete direttamente oggi tutto qua allora ma chi sono questi amnioti? lo sapete chi sono gli amnioti? gli amnioti eh sono derivati dagli anfibi però sono quel gruppo coraggioso temerario che avevano voglia di esplorare le ferre emerse e quindi di allontanarsi dall'acqua di emanciparsi da questo bisogno dell'acqua per far crescere le proprie prole e i propri piccoli la sei già questa? no scherzo allora quindi questi amnioti a un certo punto iniziano a conquistare le terre emerse e lì è secca l'aria capito? batte il sole i piccoli devono eh nascere già un pochino più maturi di fatto se ci pensate il girino è una specie di embrione no? che vive in un enorme amnios che chiameremo stagno giusto? lo stagno è una specie di enorme amnios in cui c'è anche da mangiare è un embrione piuttosto indipendente però cresce lì a un certo punto fa la metamorfosi e quello è il momento in cui può uscire dall'acqua invece questi bestiole qua devono uscire e quindi costruiamo un uovo in cui si possa avere lo sviluppo questo sviluppo chiaramente bisogna anche costruirgli un piccolo stagno piccolo personale d'accordo un piccolo stagnetto per il piccolino privato che sarà l'amnios no l'amnios sarà l'acqua no? perché si chiamano amnioti perché l'embrione cresce in una specie di piccolo sacchetto questa cosa grigia che vedete qua vedi questo è l'amnios ok questo è l'amnios quindi è uno strato che rimane liquido dove c'è dell'acqua quindi lui è a bagno è il suo laghetto ce lo siamo portati fuori lo stagno l'abbiamo messo dentro a un guscio ma c'è sempre questo stagno e poi chiaramente però bisogna anche dargli tutto il nutrimento per uscire dall'uovo appunto già invece maturo che non ha bisogno di stare nell'acqua con le piume con la pelle con i peli con quello che sarà con le scaglie però pronto per stare sulle terre emerse senza bisogno di acqua e quindi anche per questo bisogna dargli un sacco di nutrimento tutto quello che il girino avrebbe mangiato per crescere nello stagno e glielo devi già mettere nell'uovo e quindi ecco che abbiamo un sacco di tuorlo quindi queste uova si modificano diventano giganti perché devono contenere un sacco di tuorlo la cellula uovo contiene una quantità abnorme di tuorlo questo chiaramente nei sauropsidi a un certo punto da questi sauropsidi origineranno invece i placentati i mammiferi placentati e quindi lì ci sarà poi un'altra storia che però vi racconto tra pochissimo per adesso fermiamoci un attimo ai sauropsidi prima tappa evolutiva primo step quindi questa quantità gigantesca di tuorlo questa cosa ve l'ha già fatta la professoressa vero? Patrizia un po' no? quindi ve la ripeto solo velocissimamente di fatto la porzione che di questo enorme tuorlo la porzione che si sviluppa quindi che darà origine all'embrione dove c'è il nucleo della cellula uovo in realtà è un piccolo disco un vecchio disco che suona da tanti milioni di anni e che si trova in cima al tuorlo la segmentazione quindi in questi in queste gigantesche uova non è oloblastica quindi non prende tutto l'uovo ma è si dice meroblastica discoidale l'avete già fatta sta roba? ok quindi meroblastica discoidale e che cosa a che cosa porta però? di fatto porta ad un unico foglietto che chiameremo epiblasto quindi questa divisione di cellule le cellule si dividono non c'è la blastocisti non c'è la blastula scusate non c'è la blastula la morula tutte quelle cose lì abbiamo di fatto la formazione solo di un disco un epitelio di cellule che chiameremo epiblasto e che è piatto ok questo è sono gli embriopiattisti presente quindi non sono che dicono che gli embrioni sono piatti non sono tondi ma cosa dici gli embrioni sono sferici no no gli embrioni sono piatti in effetti questi sono embriopiattisti veramente lo dice la scienza allora al di sotto in effetti del epiblasto ci troveremo anche un altro tessuto che si chiama ipoblasto ma che ci dimentichiamo non importa ok se non fanno le pulizie sotto al palco non ce li cagliamo ok epiblasto quindi un unico un unico strato di cellule e se lo guardiamo dall'alto quest'unico strato di cellule è proprio un disco più o meno omogeneo con un'unica piccola increspatura nella parte posteriore e con posteriore intendo proprio riferito al futuro asse antroposteriore che vedremo adesso nella parte posteriore c'è una piccola espessimento così una collinetta che chiameremo linea primitiva con la massa con la clava no in realtà non so perché la chiamano linea primitiva perché in realtà è una cosa molto moderna cioè è venuta c'è da poco è una novità sul pianeta comunque la chiamiamo quello stesso primitiva linea primitiva questa linea primitiva all'inizio dello sviluppo quindi alla fine della segmentazione poco prima che cominci la gastrulazione questa linea primitiva di fatto occupa quasi l'intera disco embrionale ok quindi ci siamo disco embrionale fatto da un epitelio che si chiama epiblasto con in mezzo questa riga questo lieve espessimento che si chiama linea primitiva in effetti già che siamo di nomi dai va finiamola con i nomi la porzione più anteriore di questa linea primitiva la chiameremo nodo di ensen una roba da marinai nodo di ensen allora nei mammiferi faccio un attimo un salto evolutivo arriviamo allo stesso arriveremo ad uno stadio simile però la cosa bizzarra è che ci arriviamo passando attraverso uno sviluppo invece molto diverso perché? perché nei mammiferi lo sapete non c'è più il problema dell'uovo quindi del nutrimento il nutrimento lo fornisce la mamma con l'utero quindi lo sviluppo è interno è intrauterino e quindi non c'è più bisogno di zeppare queste cellule uovo con tutto questo tuorlo le cellule uovo ritornano ad essere piccole come erano centinaia di milioni di anni prima si riprende è incredibile ce l'abbiamo ancora in catalogo evidentemente sì nel programma genetico si può recuperare un programma genetico antichissimo in cui le cellule uova erano piccole più piccole forse anche di quelle del riccio di mare in realtà non le so le dimensioni ma quelle del riccio di mare comunque sono cellule grandi più o meno come quelle del riccio di mare una cellula normale senza particolarmente vitello dentro senza grandi quantità di vitello e che si divide non a disco attenzione ma come si dividevano una volta quindi prima in due poi in quattro si forma una morula non si vedevano morre da un sacco di tempo ma dai sai che mia nonna faceva le morule e a volte le mode tornano vedi quindi rifacciamo la morula e pure la blastula ma dai ma sai che i miei antenati ricci di mare facevano le blastule era una vita e non si facevano più e invece così come la polenta torna di modo allora rifacciamo la blastula ecco che però attenzione già fin qui sì è vero che gli stadi somigliano moltissimo ma in realtà nella pratica scusate più che non nella pratica scusate dal punto di vista funzionale in realtà ci sono delle enormi differenze perché innanzitutto questa divisione iniziale è lentissima vi ricordate le prime divisioni sono sincrone molto veloci sm sm non ci sono le fasi g ecco già qui no la prima divisione nell'uomo mi pare che prenda tipo 24 ore un giorno per fare la prima divisione con attivazione di geni zigotici subito lo zigote esprime già dei geni zigotici ok cioè c'è già espressione genica nello zigote e poi in realtà la blastula non la gastrulazione esatto non ci sarà la gastrulazione come abbiamo visto nel riccio di mare in realtà la blastula a ben guardare è formata da due tipi di cellule due linee differenziative il grosso delle cellule quelle che appunto ricoprono la superficie della blastula sono queste cellule che qui vedete in verde e che di fatto non non diventeranno quel frugoletto quindi è qualcosa che quando andate in sala parto poi quello non ve le portate a casa quella è la placenta diventeranno la placenta sono tessuti extraembrionali puoi dire la verità c'è anche chi se la porta a casa ma questa è un'altra storia ecco però non la iscriverete all'università d'accordo non l'accompagnerete a scuola cosa del genere quindi quelli sono tessuti extraembrionali l'embrioncino quello a cui vi attenzionerete il frugolotto viene fuori in realtà da un grumetto di cellule e io lo chiamo così però in realtà se vedete che anche il termine corretto non è che sia molto più elegante inner cell mass quindi la massa di cellule interna ok comunque questo grumo di cellule questo gruppetto di cellule e l'embrion in realtà verrà fuori da questo gruppetto che inizialmente non ha neanche un patterning o un'organizzazione particolare è proprio un grumo di cellule grumo di cellule che però attenzione si differenzia dalle altre per l'espressione di alcuni fattori di trascrizione fondamentali per esempio non so se lo conoscete questo oct4 è uno dei fattori di trascrizione di Yamanaka sai Yamanaka l'induced pluristem cells cioè Yamanaka quando voleva indurre le pluripotent stem cells quindi cercava di prendere delle cellule e riportarle indietro nel tempo lui stava cercando di ottenere queste cellule ci siete e infatti i fattori di trascrizione che Yamanaka ha usato per indurre le induced pluristem cells sono tutte cellule sono tutti fattori di trascrizione espressi in modo specifico da queste cellule Xox2 Oc4 Mif eccetera Mif comunque ecco questo gruppetto di cellule appunto viaggia lungo le tube questo diciamo questa blastula in realtà si chiama blastocisti nel mammiferi questa blastula viaggia lungo le tube fino ad atterrare nell'utero si chiama un alluteraggio no tipo l'allunaggio comunque a uteraggio comunque a utera si attacca alla membrana scusate all'epitelio dell'utero si attacca all'epitelio dell'utero e di lì appunto tutta la parte di trofoblasto in realtà comincerà a crescere a svilupparsi a svilupparsi un sacco a infilarsi mettere radici nel corpo della donna voglio entrare voglio rimanere appiccicato qui come un virus no un dolce frugolotto che ha bisogno di cure e attenzioni e sangue e nutrimenti quindi questo quindi di qui si formeranno dei villi che però insomma la storia della placenta ve la salto in ogni caso tutta questa parte di trofoblasto darà origine vedete questa è la placenta questa è una placenta umana tra l'altro è proprio una specie di disco è tipo la trippa se la vedete ha un sacco di questi villi che entrano quindi come fossero delle radici che entrano dentro all'utero e forniscono il nutrimento mentre il piccolo qui lo vedete questo mo che carino pucci puao lui sta dentro ad un altro sacchetto eccolo qui l'amnios lo vedete questo amnios in realtà l'amnios invece sarà un derivato dell'ectoderma quindi l'ectoderma crescendo creerà anche questo sacchetto di liquido però ecco non ci perdiamo troppo nei dettagli scusate allora questo grumetto qui però appunto non quello che diventa la placenta ma quello che diventerà l'embrione quello che vi portate a casa allora lui in effetti nelle primissime fasi quindi questo grumetto di cellule quindi siamo partiti da una cosa completamente diversa non c'era il tuorlo eccetera eccetera ma converge a formare anche lui un disco quindi quel disco embrionale con la linea primitiva che abbiamo visto nei sauropsidi lì galleggiava nel tuorlo qui non galleggia nel tuorlo se ne sta per i cavoli suoi ma lo ritroviamo anche nei mammiferi giustamente giustamente siamo la tappa evolutiva successiva quindi in qualche modo partiamo da un punto di partenza completamente diverso però convergiamo verso la stessa struttura quindi in definitiva si forma qualcosa di molto simile ed è per questo che io in realtà ve li racconterò insieme ve li racconterò in parallelo perché il punto di partenza è sempre lui è il disco embrionale il buon vecchio disco embrionale che mettiamo quando ci sentiamo romantici love me tender love me do love me tender love me do e da qui comincerà la gastrulazione poi lo sviluppo dell'asse antroposteriore e dorsolentale allora questo disco embrionale l'avevate già visto? sì giusto disco embrionale linea primitiva nodo di ensen allora questa linea primitiva ci interessa perché da lì comincerà la gastrulazione l'ingresso del mesoderma e in realtà attenzione anche dell'endoderma avviene proprio alla linea primitiva cioè la linea primitiva sarà qualcosa di molto simile al labbro dorsale del blastoporo ci siete? immaginate il labbro dorsale del blastoporo vi ricordate? lì c'erano i tessuti che c'era il mesoderma che si infilava sotto la stessa cosa alla linea primitiva c'è l'ingresso di questo mesoderma che si deve mettere nel meso quindi ci sarà l'endoderma che va sotto e il mesoderma che rimane meso tipo il ketchup in un panino si spande così mesoderma che si spande sotto ok e tutto qui fin qui credo più o meno lo sapevate dovrebbe essere semplice quindi linea primitiva è il punto in cui c'è l'ingresso del mesoderma e dell'endoderma ecco invece rispetto agli assi dorso-ventrale e antero-posteriore qui dobbiamo fare un piccolo salto mentale per ricollegarci a quello che succede negli anfibi perché qui non è che andiamo a trovare qualcosa di non troppo diverso che si è un po' modificato cioè negli anfibi è una palla qui siamo passati alla versione a disco ok embriopiattista la versione embriopiattista però appunto adesso vedremo è semplicemente un appiattimento di quella palla fidatevi che se voi immaginate tutto quello che sapete già dello xenopus lo potrete riutilizzare se appiattiamo quella palla e quindi per cominciare proviamo a tornare al nostro la religione la fede aiuta in questi momenti difficili e quindi torniamo alla alla nostra liturgia del mesoderma ok ripetiamo con noi questo noto corda sommiti mesoderma intermedio mesoderma della laterale ok questo è l'abbiamo visto come dorso ventral giusto questo è la sequenza dorso ventrale dei distini nel caso di un embrione a tutto tondo chiaramente è dorso ventral nel caso del disco in realtà è la stessa cosa è solo piatto cioè i domini ventrali li troveremo più laterali cosa succede però non saranno laterali per sempre perché voi non siete piatti giusto io almeno ho avuto una parte ventrale questo perché più avanti nello sviluppo quindi cominciamo come un disco ed è solo successivamente nello sviluppo che questi due elementi laterali andranno a collimare sotto quindi parte così parte piatto però a un certo punto si rigira come un cannolo siciliano in realtà si chiude anche davanti e dietro però il concetto è quello d'accordo hopla a formare un cannolo quindi si ripiegheranno i foglietti l'ectoderma dei due più laterali diventerà ventrale si toccheranno è la stessa cosa per l'esoderma e endoderma ci siete? questo qui non è poi così difficile quindi lo vediamo piatto ma sappiamo che man mano che andiamo in là diventiamo sempre più ventrali lo guardiamo dall'alto non è neanche così difficile da immaginare ecco e invece dove lo mettiamo questo labbro questo blastoporo vi ricordate il blastoporo era un cerchio e scusate qui vi ho segnato anche se non è proprio fatto così però esisteva una porzione dorsale giusto? il blastoporo ha una porzione dorsale e una porzione ventrale e questo punto era il dorsal blastoporlip allora io vorrei fidatevi di me che per pensare alla linea primitiva voi faceste riferimento a questo nostro amico blastoporo ma semplicemente lo schiacciaste un po' così ok ve lo ricordate il labbro dorsale del blastoporo quello che aveva l'asse dorsoventrale in sé e lo srotolava in avanti adesso non ve lo spiego ancora ve lo svelo meglio domani però immaginiamo proprio solo come se si fosse schiacciato così per il resto è tutto molto simile cioè il mesoderma si infila lì sotto quindi si infila da qui come in una tasca sembra una vagina si infila dentro e corre sotto dentro e a questo punto ok capito questo siamo pronti per vedere buttare un occhio veloce sì sì ce la facciamo tranquillamente alla meccanica della gastrulazione ci siete quindi vediamo avvenire questa gastrulazione e formarsi gli assi anteroposteriore e dorsoventrale siete pronti adesso vi faccio solo vedere come si formano poi la specificazione tutte queste elementi di patterning li vediamo domani no scusate mercoledì prossimo ok allora appunto vi ho detto che tutto comincia con questo lo vediamo nel pollo è anche più facile da vedere perché è proprio bello piatto si possono aprire delle finestre nel guscio e lo guardi ci sono i film adesso ne faccio vedere un video quindi il pollo comincia con questo disco e questa linea primitiva allora l'inizio della gastrulazione è il momento in cui il mesoderma si infila dentro quello lì comincia la gastrulazione quindi invaginazione le prime cellule che entrano iniziano a portarsi un po' in avanti in effetti entrano e migrano verso l'avanti però vedete che non è che c'è molto spazio l'embrione finisce subito lì ecco che però mentre loro vanno in avanti le vedremo adesso con dei video anche allontanarsi progressivamente dalla linea primitiva aspetta lo faccio di qua quindi loro vanno in avanti io sono la linea primitiva questa mia testa è l'ensen nod lo vedete questo è un bel nodo diensen qui entra dalle mie orecchie il mesoderma e comincia a portarsi in avanti contemporaneamente però vedremo la linea primitiva comincia a indietreggiare oh aiuto senza trovare ostacoli meglio quindi entrano dentro e la linea primitiva comincia a indietreggiare lasciando dietro di sé attenzione perché questo è il punto cruciale ma adesso lo vedrete lasciando dietro di sé come una stampante 3D l'asse anteroposteriore quindi questo primo pezzo sarà la testa e poi la linea primitiva comincia ad arretrare a fare le spalle il tronco aiuto aiuto qui c'è il ahhh a questo punto vola e muore quindi arretra lasciando dietro depositando l'asse anteroposteriore in questo caso l'elemento di temporale nella formazione dell'asse anteroposteriore è più è super evidente ok nel Xenopus dovremmo un po' immaginarlo qui è proprio molto evidente e ve lo faccio vedere in effetti siete pronti? eccolo qui questo è l'inizio vedete e poi vedremo questa linea primitiva che arretra lasciando dietro di sé l'intero embrioncino ma più che in tanti snapshot io preferirei farvelo vedere certo gli studenti di biologia guidano tutti le lotus ma c'è proprio ci sanno fare ecco le pubblicità le azzecatissime azzecatissime allora attenzione aspettate che voglio farvelo vedere bene così eccolo qua spegniamo anche le luci per questa proiezione in realtà dura tipo 4 secondi comunque pop corn patatine mettetevi comodo allora quello che state vedendo lì sopra questo è un disco embrionale di pollo disco embrionale tutto intorno questo è il tuorlo ok solo visto al microscopio questo è il disco embrionale questa è la linea primitiva ci siete lo vedete questa è la linea primitiva e vedete ve lo inizio a far vedere poi lo commentiamo dopo l'embrione si allunga e la linea primitiva scappa guardala lì come va indietro mentre tutto si allunga qui chiaramente poi è difficile ci siete vedere chi è che sta migrando e chi no comunque si allontanano l'uno dall'altro la linea primitiva arretra sempre di più e l'embrione continua il suo sviluppo non so se vi accorgete ci siete addirittura non so se vedete o vediamo se riusciamo a vederlo allora questo qui è la linea primitiva e questa linea primitiva in realtà non farà parte dell'embrione si forse diventa un pezzo dell'ano ma in realtà è una specie immaginiamola come un dietro le quinte la linea primitiva è proprio il dietro le quinte dove si preparano gli attori allora testa eccoci si prepari il collo ecco arrivo quindi la linea primitiva entrano le cellule alla linea primitiva di ogni particolare livello antero posteriore e in questo caso è molto evidente che queste qui dove sono le cellule della testa non ci sono ancora ecco si sono formate quelle che erano più indietro ancora non ci sono che man mano che andiamo indietro si stanno formando entrano entrano da questo punto ma non è che c'è proliferazione cellulare quindi noi prendiamo massa dal tuorlo la facciamo diventare cellule e queste cellule diventano prima testa poi collo poi via via e in effetti questo fa sì che ci sia un ritardo progressivo nel livello di sviluppo tra la porzione più anteriore e la porzione più caudale perché guardate un po' vedete qua questa qui è la testa in questa porzione anteriore se ci fate caso qui abbiamo già il tubo neurale si è formato e si è anche già chiuso l'ectoderma lo vedete qua qui l'ectoderma si è già chiuso è già tutto avvolto in un ectoderma mentre nella porzione se andiamo a vedere qui qui non c'è manco la piastra neurale più dietro è la stessa cosa per il mesoderma quindi qui ci saranno la notocorda e qui ci sono i sommiti ecco qui vedete c'è una zona la linea primitiva è qui ha prodotto una specie di tappeto di cellule questo tappeto di cellule poi man mano che passa il tempo comincia ad organizzarsi però nelle porzioni più anteriori che sono più vecchie sono state messe lì per prime c'è stato il tempo di cominciare a organizzarsi di più quindi sono più avanti nello sviluppo mentre questo è un sommite appena bozzato questa è una zona che sta io vi posso dire che qui tra un secondo si formerà un sommite eccolo lì avete visto e poi quelli dietro prima non c'era ma si aspetta un po' si formano li vedete che si formano anche qui eccoli lì che si agganciano no quindi di fatto questa è proprio una stampante 3D che sta lasciando dietro di sé l'asse anteroposteriore e in effetti il numero di sommiti per esempio è il criterio che viene utilizzato tipicamente per stadiare gli embrioni a che stadio siamo a che punto siamo dello sviluppo della gastrurazione perché la gastrurazione è lunga a che punto siamo della gastrurazione e siamo allo stadio anzi che poi in realtà non è anche gastrurazione perché qui c'è la gastrurazione ma nel frattempo c'è già anche l'organogenese più anteriormente cioè è tutto un po' asincrono e per stadiare gli embrioni si contano i sommiti siamo allo stadio di 10 sommiti 15 sommiti 20 sommiti e quindi al numero di sommiti viene appunto valutato lo stadio degli embrioni ecco a questo punto però ci sono una serie di cose quindi aiuto abbiamo finito il tempo allora questa era un po' la storia che vi racconterò domani quindi questa linea primitiva che cresce e lascia dietro di sé un asse anteroposteriore che però vi faccio notare ha chiaramente definiti già perfettamente anche quello dorso-ventrale dov'è che lo vedremo meglio non lo so forse sai che davvero nel video ha definito benissimo anche l'asse dorso-ventrale ok perché perché nella porzione centrale c'è la notocorda di fianco alla notocorda ci sono i sommiti mesoderma intermedio mesoderma delle lamine laterali quindi il nostro asse dorso-ventrale è qui un po' appiattito ma c'è e viene rilasciato a strisce ok quindi entra il collo vai notocorda sono in mezzo più a lato vai così è una squadra di baseball è una squadra di rugby sono messi tutti in posizione ed escono da questo dietro le quinte la linea primitiva è proprio la quinta loro entrano in scena entrano in scena è teatralissima questa cosa entrano in scena dalla linea primitiva e sono già subito in posizione chi sta più centrale chi sta un po' più laterale è l'azione quindi è questa il punto sarà adesso cercare di capire chi conferisce a queste cellule la loro identità dorso-ventrale sai dove andare come mai sei andato lì ma lo sapevi già no non lo so boh c'è un tizio che mi ha detto vai lì a me mi hanno tirato un calcione sono finito laterale boh è chiaro quindi queste cellule escono avendo già un'identità dorso-ventrale e antero-posteriore o la acquisiscono man mano questa cosa non ve la svelo chiaramente adesso la scopriremo la prossima settimana io però avrò assolutamente disperatamente bisogno che questo concetto questo modello proprio solo fisico della stampante 3D la linea primitiva i tessuti che entrano l'identità antero-posteriore nel tempo dorso-ventrale già specificato o insomma già in posizione voi ce l'abbiate presente ok giusto così cioè buttateci un occhio prima di venire a lezione la prossima settimana perché adesso io so che voi andrete via al weekend giusto berrete dell'alcol dormirete poco andrete a ballare farete tutte queste cose che vi faranno perdere la memoria e quindi una rinfrescatina giusto d'accordo la prossima settimana sarebbe molto utile così la chiudiamo in un'oretta e mezza è buono hola grazie a tutti grazie a tutti